L'ex golden boy confessa alla gazzetta ho fatto mia passione per la mia passione. Milano era vita per me. Mancini? Non mi piaceva i modi. Doveva andarsene prima mamma mia. Col passare del tempo Gianni Rivera compie 80 anni domani. No, scusa, sono due volte 40 o quattro volte 20. Pochi giorni fa gli hanno chiesto ma Gianni Rivera oggi è quello che è. E lui con il suo eterno e un sorriso ironico imperioso Gianni Rivera non ha età. Ma è vero.